Tu hai sapere che chi ti è successo tra me e tuo padre fu una cosa di bisinissi. Io hai un grosso rispetto per tuo padre, ma tuo padre pensava antica. E tu non lo puoi capire che io sono un uomo di onore. Tu mi dici queste cose, che sai? Lo sai? Io voglio pace. E lasciamo perdere tutti sti cazzati. Ma voi gioca... Chi è? Come si dice? Chi è? Il quello che voglio... Il quello che è più importante per me... è che ho una garantia. No più attenti sui miei figli. Che garantie posso darei tu, Michael? Il è il suo scopo. Mi mangiare la possibilità. Tu pensi molto di me, kid. Io non sono così bambino. Tu, padre, sta male. Quando io sta meglio, il cane ti fa più ognuno. E mettiamo tutto a posto. Sti fissaria. Sieteva finiti. Fraggle. Buongiorno. C'è... Grazie.